Fondo anticrisi, Pesaro di Mezzalatari ha le famiglie in difficoltà Violazione della parcondicio, Lanzi presenta esposto contro la giunta Ricci Calcio marchigiano in lutto, è morto Mario Vivani Un bosco di cento alberi cammina per i luoghi simbolo di Pesaro Cittadino dell'anno 2024, premiata Giorgia Righi Una buona serata a tutti voi amiche e amici di Rossini TV Ben ritrovati al nostro spazio informativo serale di Rossini News Telegiornale di mercoledì 17 di aprile che apriamo oggi occupandoci della presentazione avvenuta nelle comune di Pesaro del Fondo anticrisi 2024, un fondo in cui il comune stanza 300.000 euro per dimezzare il pagamento della Tari la tassa su rifiuti nei confronti delle famiglie in difficoltà Per il 2024 il comune di Pesaro torna a proporre il fondo anticrisi e a destinarlo al pagamento della Tari per famiglie con Isee fino a 16.000 euro Tassa comunale su rifiuti che verrebbe infatti dimezzata per le famiglie beneficiarie che se rientranti nei requisiti potranno pagare le prime due rate della Tari per poi vedere la terza e la quarta pagate direttamente dal comune Un fondo anticrisi aumentato da 200 a 300.000 euro dopo l'ultima variazione di bilancio in un accordo siglato con le rappresentanze sindacali di CGL, Cisle e Will Andiamo ad implementare quello che avevamo già stanziato in bilancio di previsione 200.000 euro, andiamo ad incrementare con ulteriori 100.000 quindi per un totale di 300.000 che utilizzeremo per il fondo Tari ovvero a disposizione delle famiglie che hanno più bisogno per pagare le bollette bollette che verranno col bando pagate dal comune per il 50% quindi due bollette su quattro e cercando di replicare ovviamente in misura un po' ridotta rispetto a quello che avevamo già fatto nel 2022 dove avevamo messo a disposizione 470.000 euro Come ogni anno il fondo e i soldi, le risorse e dove investire è stato deciso da un percorso fatto con i sindacati quindi insieme abbiamo valutato quella che è la situazione sul nostro territorio e là dove dovevamo mettere le risorse le abbiamo valutate insieme ai sindacati e quest'anno l'operazione è l'operazione sulla Tari e abbiamo deciso di estendere il contributo per un ISEE cittadini che hanno un ISEE di 16.000 il bando sarà impostato come quello più o meno dell'anno scorso partendo da metà agosto quindi le risorse sono 300.000 euro il bando è per famiglie che hanno un ISEE di 16.000 e abbiamo fatto una valutazione che andremo a intercettare quasi 2.000 famiglie quindi 2.000 persone quindi è una risorsa che mettiamo sulla Tari perché abbiamo valutato che lì c'è una richiesta, c'è un bisogno e l'operazione che avevamo fatto due anni fa era stata molto apprezzata Il comitato elettorale di Marco Lanzi, candidato a sindaco di Pesero per il centrodestra annuncia che invierà un esposto contro l'amministrazione di Matteo Ricci per la duplice violazione del divieto sancito dall'articolo 9 della legge 28 del 2000 in materia di rispetto delle regole di parcondicio della comunicazione in campagna elettorale Secondo Lanzi infatti risulta un esercizio impossibile considerare indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni la manifestazione inaugurale del parcheggio di Villa Fastigi tenutasi oggi e quella del Ponte dei Cappuccini fissata per sabato prossimo entrambe per iniziative della giunta Ricci Lanzi scrive come queste manifestazioni se non sono indispensabili sono illegittime Nel comunicato Lanzi si chiede quale sia la credibilità politica di chi amministra ignorando le regole o peggio eludendole deliberatamente Cambiamo argomento e ci occupiamo di un nuovo passo avanti del progetto SOFIA che sta mettendo in rete tutto il sistema di videosorveglianza provinciale sotto la cabina di regia della prefettura Ad aderire a questo che è un progetto pilota a livello nazionale sono state oggi 10 associazioni di categoria della provincia Diventa sempre più capillare la mappatura digitale dei sistemi di videosorveglianza provinciali previsti dal progetto SOFIA Ideato dalla prefettura di Pesaro Urbino si tratta di un progetto pilota a livello nazionale che intende calare il sipare su un sistema di videosorveglianza frammentario poco incisivo in termini di sicurezza creando invece una cabina di regia unitaria di un numero sempre più ampio di soggetti Prima è toccato ai sindaci della provincia poi la procura, gli uffici di poste italiane e oggi 10 associazioni di categoria A firmare l'accordo a Palazzo Ducale sono stati infatti i rappresentanti di Confindustria, CNA, Confcommercio, Federfarma, Asso Petrolia, Asso Energia Lega Cop Marche, Confartigianato Imprese, CIA, Confapi e Confesercenti E faremo in modo quindi che questo sistema di mappatura sia veramente completo sul territorio provinciale Per noi è un ottimo risultato e ringrazio tutte le associazioni di categoria che si sono dimostrate veramente molto sensibili alla problematica Il cuore del progetto SOFIA parte dalla geolocalizzazione degli impianti su mappa via area digitale e si propone nell'immediato di risalire in tempo reale all'ubicazione ai referenti tecnici di tutti gli impianti censiti accelerando così l'acquisizione dei dati da parte delle forze della polizia in occasione dei reati Noi pensavamo che oggi fosse diciamo lo step finale e invece abbiamo avuto contatti anche con Abbi e si sono dimostrati anche loro molto interessati a partecipare quindi probabilmente nei prossimi giorni avremo anche le banche con noi e il sistema delle banche i risultati si sta ovviamente adesso si stanno registrando tutti quanti sulla piattaforma informatica sono tanti mancano soltanto 6 comuni dei nostri 50 quindi è un buon risultato Cordoglio da parte dei comuni di Urbino e di Riccione per la morte a 65 anni di Diana Sorini docente urbinate in servizio al liceo Volta Fellini di Riccione infatti lei è la donna morta nell'incidente stradale che vi abbiamo raccontato nel telegiornale di ieri incidente avvenuto a Cappone di Vallefoglia quando l'opel della donna avrebbe invaso la corsia opposta perdendo il controllo dell'auto proprio mentre rincasava dal lavoro a Riccione un'invasione di corsia che l'ha portata fatalmente a scontrarsi e a incendiare l'auto nell'impatto con un camion guidato da un 36enne di Vallefoglia e questa mattina invece un uomo di 64 anni è stato trovato senza vita in casa dai vigili del fuoco all'interno della sua abitazione di Osteria Nuova di Montelabate vigili del fuoco che erano stati chiamati per un'apertura porta allertata da un familiare che da giorni non riusciva a reperire l'uomo in questione una volta nella casa l'uomo è stato trovato esanime sdraiato sul suo letto sul posto anche il 118 e i carabinieri per un decesso che dovrebbe essere riconducibile a cause naturali Lutto nel calcio marchigiano è morto nella notte all'ospedale di Urbino dopo una breve malattia il cagliese Mario Vivani stimatissimo calciatore e allenatore aveva 75 anni tantissime le società sportive marchigiane e non solo che oggi lo hanno ricordato con 263 partite Vivani è stato il secondo giocatore con più presenze nella storia dell'Ascoli protagonista della prima gloriosa cavalcata dalla Serie C alla Serie A Vivani è stato anche allenatore di piazze marchigiane come Fermana, Civitanovese e Tolentino Fabriano la stessa cagliese fino all'ultima panchina nel 2020 con la Cantianese domani i funerali nella sua Cagli Ed ora cambiamo argomento e torniamo a Pesaro dove da sabato 20 aprile arriveranno in Piazza del Popolo 100 fra alberi e arbusti in quello che è un progetto che si intitola Il Bosco che Cammina questo progetto unico nel suo genere inserito nei dossier di Pesaro Capitale della Cultura è stato presentato oggi in Municipio Un bosco germogliato negli spazi della caserma militare e che sarà messo definitivamente a dimora ad ottobre all'alberghiero Santa Marta punto di partenza ed arrivo che avrà in mezzo 5 mesi di un bosco che cammina questo è il titolo del progetto nato nel solco del tema La natura della cultura di Pesaro 2024 che porterà un'imponente installazione di 100 fra alberi e arbusti a spostarsi fra alcuni luoghi simbolo della città a cominciare da Piazza del Popolo dove il bosco comincerà a stazionare da sabato 20 aprile Un progetto ideato e coordinato dal consigliere comunale Michele Gambini è affidato operativamente ad Aspes attraverso l'architetto paesaggista Olga Mosquina Sono 100 piante grandi, per intenderci la più alta, arriva a 6 metri e mezzo con il vaso e tutto Sono messi in vasi anche quelli di dimensioni molto significative di un metro cubo, studiati apposta per questa esperienza che servono a tutelare la pianta dagli sbalzi di temperatura dalla variazione troppo repentina di umidità Queste piante occuperanno spazi della città per 5 mesi e saranno spostate periodicamente con una festa di popolo 100 piante che occupano uno spazio fisico creano un luogo, un luogo diverso che non esisteva e dentro questo luogo accadranno delle cose di matrice culturale naturalmente L'idea fondamentale è che l'elemento vegetale, irrompendo in uno spazio che non è normalmente abitato dalla vegetazione trasforma, lo trasforma e è capace di reinventarlo e quindi questo vogliamo produrre Naturalmente tutto questo deve produrre una trasformazione definitiva le piante, come è giusto che sia, a ottobre, quindi nel momento più opportuno per fare questa operazione andranno a terra, specificamente nella pertinenza scolastica dell'Istituto Santa Marta che da luogo desertico, perché oggi parliamo di un suolo totalmente compattato e totalmente sterile sarà rigenerato, lavorato, si porterà del compost dello stallatico e poi ospiterà queste piante quindi laddove c'è un deserto ci sarà un parco con delle aule verdi per la scuola quindi una trasformazione anche di alto valore, come posso dire, pedagogico ma simbolico, ambientale e culturale Ogni tappa del bosco che cammina sarà accompagnata da eventi culturali divulgativi curati dal direttore artistico Sergio Palladino Il 28esimo reggimento Pavia ci ha ospitati e senza quella collaborazione non avremmo potuto farlo è stata una generosità preziosissima usciremo dalla caserma sabato mattina e arriveremo in piazza starà due settimane in piazza, poi via San Francesco, poi davanti al Mengaroni e la pescheria nella piazzetta della creatività, poi di fianco all'auditorium Scavolini poi speriamo in Calata Caio di Uiglio perché questa tappa in particolare è soggetta all'approvazione della Capitaneria di Porto e dell'autorità portuale con la quale abbiamo già un'interlocuzione però dobbiamo curare dei dettagli poi la palla di pomodoro e infine a fine settembre andremo nella loro dimora definitiva E questa mattina al Museo Officine Benelli di Pesaro c'è stata la cerimonia di premiazione del Cittadino dell'anno 2024 un premio conferito ogni anno dai lettori pesaresi del resto del Carlino vediamo chi ha vinto nel servizio di Teobaldo Bianchini In centinaia questa mattina hanno riempito la sala del Museo Officina Benelli in occasione dell'evento del Cittadino dell'anno organizzato dall'arresto del Carlino di Pesaro che festeggia al meglio i dieci anni di manifestazione con un record assoluto di votanti sono infatti 25.460 le preferenze espresse con un podio occupato totalmente dei giovani e che ha visto sul gradino più alto Giorgia Righi con 9.285 voti altro record dell'evento Allora è stata una bella iniziativa, una bella giornata perché arriviamo alla conclusione di un percorso con il Cittadino dell'anno un'iniziativa iniziata dieci anni fa quindi non è un'iniziativa propriamente storica del giornale ma mi piace definire un'iniziativa archeologica per il meccanismo che inneschiamo che è ancora quello del coupon dei tagliandi in cui si scrive il nome del candidato preferito si vota, si porta il tagliando in redazione cioè non c'è un click, non c'è una mail non c'è nulla di tecnologico in tutto questo però continua a funzionare tanto che quest'anno sono arrivati addirittura oltre 25.000 tagliandi la vittoria è andata a un personaggio splendido della nostra provincia che è Giorgia Righi che è sempre protagonista ma lo è stata di più nel 2023 ancora di più con il film Ancora volano le farfalle al secondo posto Francesco Vitali che è il fratello di Benedetta Vitali una delle ragazze purtroppo morte alla lanterna azzurra di Corinaldo nella strage e lui si sta battendo non solo per la verità su quella vicenda ma anche per il divertimento sicuro e il terzo posto l'hanno conquistato i Belfortissimi di cui abbiamo più volte, tante volte raccontato la storia e quindi raccontiamo attraverso questa iniziativa le storie dei persone e personaggi della nostra provincia in maniera diversa rispetto a quello che facciamo ogni giorno sul giornale e devo dire che questa iniziativa, lo dicono i numeri, continua ad avere un grande successo Grande emozione per Giorgia Righi nel ricevere questo riconoscimento frutto, come lei racconta, di un lavoro che mira a buttare giù barriere architettoniche, mentali e sociali È un'emozione bellissima Tante persone mi hanno votata e voglio ringraziarle una per una per aver dedicato tempo e impegno in questa impresa In questo ultimo anno tante sono state le lotte verso l'accessibilità nella città di Pesaro e anche la divulgazione del messaggio positivo e di riscatto con il film e con vari eventi Quindi puntiamo sempre ad alzare l'inclusione delle persone con disabilità in città Un appello la cittadina dell'anno 2024 lo lancia anche ai giovani, ma soprattutto agli adulti riponendo grande fiducia nei primi e chiedendo ai secondi di ascoltarli di più Secondo me i giovani hanno tanto da offrire In alcuni casi dei giovani purtroppo gettano la propria vita Mentre tanti altri hanno delle ricchezze grandissime da offrire Quindi basterebbe ascoltare a volte un po' di più i giovani per rendersi conto di quanta bellezza hanno E come facciamo ormai quotidianamente? Continuiamo la nostra marcia d'avvicinamento alle elezioni amministrative di giugno E oggi andiamo a conoscere Alleanza Verde e Sinistra Che a Pesaro ha presentato la sua sede elettorale e la prima bozza di programma E' stata inaugurata oggi in Largo Mamiani la sede elettorale di Alleanza Verde e Sinistra Che ha presentato i dieci punti programmatici di un percorso verso le elezioni amministrative a Pesaro Costruito sulla visione di Europa Verde e Sinistra Italiana Ma che si propone anche come lista aperta a comitati e cittadini Con la partecipazione attiva quale primo cardine del programma La cosa più importante per noi è poter parlare ai cittadini e spiegare cosa veramente vogliamo portare nella nostra città Come sicuramente unica novità partitica a Pesaro E lo vogliamo fare con il metodo che c'è da sempre con naturale Cioè quello di ascoltare e poi magari fare la sintesi e riportarlo nelle istituzioni Alleanza Verde e Sinistra punta su politiche ambientali che prevedono un piano di sviluppo del verde Un'attenzione al ciclo dell'acqua e dei rifiuti L'applicazione della cosiddetta strategia Fiver Programmi di agricoltura e mobilità sostenibile E poi ancora politiche sociali per il diritto all'abitare, politiche del lavoro che puntano su retribuzioni eque Politiche di inclusione dallo sport alla tutela delle minoranze Dal salario minimo comunale, quindi il discorso del lavoro, all'emergenza abitativa, alla gestione del verde Tanti punti all'attivo e soprattutto noi siamo per l'ambiente e di conseguenza per la salute e benessere del cittadino Per lo sport inclusivo e tantissimi altri temi E' quello della cultura della pace e dell'accoglienza E quindi anche dell'utilizzare tutti i mezzi della diplomazia che anche un comune ha Per poter incidere sulle dinamiche internazionali che in questo momento sono drammatiche E per contribuire ai processi di pace e di dialogo tra le nazioni E in questo in particolare facciamo riferimento al gemellaggio Pesaro Rafa e uno dei nostri candidati Appunto Nasser Dabash La nostra posizione naturale come Alleanza Verdi Sinistra è nel centro-sinistra Ma che sarà improcrastinabile un confronto immediato sui nostri punti programmatici Perché noi non siamo qui per fare semplicemente le barricate nei confronti di un'altra magari coalizione Che non è progressista ed è sovranista Ma per portare avanti dei temi che secondo noi in questa amministrazione Oggi come oggi sono fondamentali e mancano da almeno 15 anni Ed ora vediamo notizia di alcuni spettacoli in questo weekend Cominciamo da venerdì 19 aprile con uno degli ultimi appuntamenti della stagione Che celebra i 30 anni dell'orchestra sinfonica Rossini Venerdì alle 21 al teatro Rossini torna il celebre violoncellista Giovanni Gnocchi In veste di solista accompagnato dalla giovane bacchetta del direttore principale Riccardo Bisatti Il tutto in compagnia della compagine dell'orchestra sinfonica Rossini nella sua veste al completo Teatri d'autore stagione di prosa nei teatri storici della provincia di Peso Rubino Organizzata da Amat fatta a sabato 20 aprile al teatro comunale di Monbaroccio Con il concerto degli Apnea Un'apprezzata band pesarese pop rock composta da Alessandro Guarandelli, Andrea Molinari, Francesco Antonelli, Luca Magrini e Marco Molinari Da Monbaroccio al teatro Sanzio di Urbino dove vi segnaliamo che sabato 20 aprile alle 21 Si terrà invece lo spettacolo diretto dalla pianista Elena Generali dal titolo La nostra voce non è un eco, la voce, la musica, l'anima inascoltata delle donne E concludiamo il nostro telegiornale spostandoci a Urbino dove gli studenti universitari e non solo Hanno ricevuto una straordinaria lezione di legalità da una delle più relevanti figure dell'antimafia Come il procuratore Nicola Gratteri Il grifone, come la tecnologia sta cambiando il volto dell'Andrangheta Titolo del libro scritto a quattro mani dal procuratore antimafia Nicola Gratteri E dal saggista esperto di Andrangheta Antonio Nicaso Divenuto oggetto di lezione per gli studenti dell'Università di Urbino In un incontro organizzato da Rotari e Rotaract Urbino Contrasto alle mafie e legalità che sono stati il filo conduttore dell'anno rotariano È stato un momento importante e anche molto significativo Il premio che i giovani hanno ricevuto dal procuratore Gratteri e dal dottor Nicaso In questa occasione di presentazione del libro dei due autori Su un tema che è decisamente straordinario per le problematicità che apre Questa dimensione nuova delle organizzazioni criminali Che entrano a pie pari nel mondo dell'informatizzazione Di quello che è il processo fortemente innovativo Che deriva dal mondo dell'intelligenza artificiale Di tutto quello che è il mondo della rete C'è stata un'accelerazione da parte delle mafie Nell'uso di internet Nell'utilizzo del dark web Per commettere reati Per comprare droga Per comprare armi E quindi tutto questo Ci ha trovati impreparati Perché nel corso di questi anni Non si è investito In tecnologia Per I utili indispensabili La polizia giudiziaria Prova ne è che altre polizie europee Sono riuscite a bucare delle piattaforme Come la polizia olandese Come la polizia francese Come la polizia tedesca Mentre noi No Noi riceviamo Migliaia di file audio Per Poi decripitarli Per poi Stabilire Capire Chi chiama chi Ci sono mafie Che sono riuscite ad entrare Nel cuore dell'innovazione tecnologica Che hanno Cambiato O svecchiato Il capitale sociale Con L'assunzione di hacker Di drug designers Di ingegneri informatici E una mafia Sempre più ibrida Embilico Tra realtà analogica E virtualità digitale Ed è una mafia Che lancia nuove sfide La sfida appunto Di Rinnovare i protocolli Di indagini Ed attrezzarsi Per fronteggiare Questo nuovo minaccio Da gratteri a Nicaso Un appello ai giovani A come la loro abilità informatica Potrà essere a servizio Della legalità Per fare questo tipo di lavoro Bisogna essere appassionati Informatici E quindi poi Entrare a far parte Alle forze dell'ordine Polizia, Carabinini e Finanza Provo per essere competitive Per essere performanti Rispetto a una materia Molto complessa E molto difficile C'è molta più consapevolezza Rispetto a quello che c'era Prima delle stragi di Palermo E il problema ormai È sentito A livello nazionale Quella che manca È la volontà politica La volontà di combattere Un feromero Col quale Conviviamo Da troppo tempo Però Dobbiamo ricordarci Fondamentalmente Che Non bastano Le manette E le sentenze Per combattere Le mafie Come diceva Bufalino C'è bisogno Di un esercito Di maestri elementari E noi facciamo poco Per creare Quel tipo di consapevolezza E facciamo poco Per investire in istruzione E cultura E poi ricerca E si conclude qui Il nostro telegiornale Rossini News Però continuano Gli spazi informativi Sulla nostra emittente Subito dopo il Tg Torna infatti L'appuntamento Con il nostro magazine La natura della cultura Uno spazio informativo Per fare luce Sui tanti appuntamenti Ed eventi Di Pesaro Capitale della cultura 2024 Appuntamento Che va in onda In tre giornate In tre fasce orare Il lunedì appunto Il mercoledì di questa sera E il venerdì Alle 8 Alle 13 E appunto Alle 20 Il tutto Con riassunto settimanale Il sabato alle 12 Alle 19 E la domenica Alle 15 E alle 21 Sempre questa sera Dalle 21 e 20 Faremo un approfondimento Sulla edizione primaverile Di Cantiano Fiera Cavalli 2024 Una grande manifestazione Nella città Nel comune Ai piedi del Catria Che verrà approfondita In studio dal nostro Paolo Pagnini In compagnia del Sinaco di Cantiano Alessandro Piccini A seguire alle 21 40 Un altro approfondimento Invece su Pesaro Quello riguardante La primavera Al Garden Center Florio E poi vi ricordo Naturalmente L'appuntamento Quotidiano Dal lunedì Al sabato Con l'informazione Di Buongiorno Rossini La nostra segna stampa Dei quotidiani locali Come sempre In diretta Dalle 7 Edizione del giovedì Che sarà condotta Dalla nostra direttrice Emanuela Rossi E ancora Altra diretta Quella di domani sera Quella di Insieme a Canestro Ultime partite E ultime puntate Anche del nostro Foco sulla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Domani nel salotto Della nostra Elisabetta Ferri Ci sarà L'ultimo acquisto Il pivot Ludon Love In compagnia Dell'ex allenatore Della VL Spiro L'Eca E naturalmente Con la possibilità Di interazione In diretta Di voi tifosi Al numero Whatsapp Dedicato 370-366-72-10 Ed è davvero tutto Invece Per questa edizione Del nostro Telegiornale Rossini News Vi ringrazio Per averci seguito E vi auguro Un buon proseguimento Di serata In compagnia Dei nostri programmi